Sono sotto shock e Berrettini si ritira da Wimbledon per via della positività al Covid-19. Non è il primo, perché il primo è stato Cilic, lui è il secondo. Il problema adesso è un altro. È un altro che comprende altri due giocatori, Nadal e Djokovic, entrambi. Djokovic si è allenato con Cilic, Nadal si è allenato con Berrettini. Ci sta un serio rischio che si ritirino tutti e due o che si ritiri uno dei due. Speriamo che non si ritirino. Mamma mia, mamma mia, che disastro, che disastro. Proprio a Wimbledon, proprio a Wimbledon fosse successo a Stoccarta, al Queens, che per carità erano tornei importanti, ma chi se ne frega. Ma a Wimbledon proprio a Wimbledon, a questo punto, a meno che di... Facciamo finta che... Cioè, più che altro facciamo finta. Mettiamo il caso che non si ritiri nessuno tra Rafa e Nole. A questo punto sappiamo già qual è la finale. Perfetto. Tra loro due. Regà, una sfiga indescrivibile. Berrettini si ritira da Wimbledon. Questo qua c'è una sfiga assurda, ma io sono sicuro che gli tornerà tutta indietro e che lo vincerà questo torneo. o una, non lo so, una volta. Una volta lo vincerà perché se lo merita il ragazzo. Su erba è un fenomeno. È più forte anche di Natal su erba. L'esperienza, però. C'è la Natal, lui no. O almeno ce l'ha molto meno. Questo ragazzo, ragazzi, è proprio sfortunato. Chiedo bene per il gioco di parole. Si deve ritirare da Wimbledon per la positività al Covid. Cioè, rendiamoci conto. Il Covid è cattivo. Non è pericoloso, eh, perché ormai non ci muore quasi più nessuno, ok? Il problema è un altro. Il problema è che è contagioso. E che tu non è... E con il Covid non puoi giocare le partite. Perché il Covid non è che è pericoloso, è contagioso. Questo è il problema. Ragazzi, sono sotto shock. Sono sotto shock. E è possibile anche, altamente possibile, che non sia l'ultimo ritiro. Perché lui si è allenato con Natal. Djokovic si è allenato con Cilic. Se facciamo 2 più 2 fa 4. Nel senso che si ritirano anche loro due. Io spero di no, perché se si ritirano Natal e Djokovic a questo punto Wimbledon ha TP 250. Perché non c'è altra cosa da dire. Ragazzi, sono sotto shock. Non so, non so sfigarmelo. Ritiro. Speriamo che... Non lo so veramente, ma... Capisco che non si possa giocare col Covid. Perché comunque, in questo caso lui aveva qualche influenza. Qualche roba del genere, ma... Ma non lo so veramente. Cioè, non so che bisogna fare. Cioè, ma una sfiga clamorosa. Quest'anno si è dovuto operare. È tornato, ha vinto due titoli. Adesso si ritira da Wimbledon. Il torneo che per lui vale più di tutti. Speriamo... Speriamo che non si vede più in nessun altro. Dai, ormai la tempesta... Non si sa ne andrà. Cioè, se si ritirano anche Natal e Djokovic o Wimbledon. Non lo vedo. Non è possibile, dai. Dai. Anche se, ve lo dico, è 50-50. Se non 60-40. Perché Natal e Djokovic ci sono allenati con Cilic e Berrettini. Io la vedo messa male. Ragazzi, non... Così non va. Quest'anno è un anno maledetto. Chi è Dovenia? Per il francesismo. Ma questo per gli italiani è un anno di merda. Di merda riguardante il tennis. Perché fa schifo. Perché dai, dai. Sì, sono... Chi è Dovenia. Mamma mia, ma che sfida. Ragazzi, oggi non è l'unico video giornata. Perché esce appena... Appena, 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 appena vienesci a registrarlo. Ci vediamo con i pronostici delle giornate. Vabbè. Pronostici... Tareisti perché... Perché a questo punto mi sto seriamente preoccupando che Natal e Djokovic ci si possono ritirare. Mi sto seriamente preoccupando. Ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.